Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, coda per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A1 possibili disagi in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione del capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze e informiamo che da quest'oggi i bus ATAF tornano a transitare in via di Rifredi. È stato infatti modificato il cantiere tramvia in corrispondenza dell'incrocio tra via Corridoni e via Bini. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Voltiamo pagina per le statali, su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per cantieri tra Firenze in Pruneta e San Casciano Nord in direzione di Siena. Il provvedimento è in vigore fino al 26 settembre. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!